Sono Jimmy Burattino, cuore grande e cervello fino, vado di qua, vado di là, suono la tromba, parapà, parapà, parapà. Cosa vedono i miei occhi? Cosa sentono le mie orecchie? La bella fior d'aliso non si è addormentata per cent'anni. L'incantesimo non ha funzionato, il re sta ballando, tutto contento, no, no, no. E' proprio come dici tu, è una mela logica, biologica, ah sì, è una mela biologica. E allora mi fai vedere la certificazione. La certifica cosa? La certificazione che certifica che è una mela biologica. Oh, e senti carina, a cavallo nato non si guarda in bocca, dagli un bel borso. Andiamo a rapire la bella fior d'aliso. Tu vai di là e io vado di qua, d'accordo? Ma cosa fai? E tu mi hai detto di andare di là e tu mi sei venuto addosso? No, tu mi sei venuto addosso. Tu vai di là e io vado di qua, andiamo. Benvenuto nel sistema operativo dello specchio magico. Come posso aiutarti? Ehm, perché i miei malefici non funzionano? Malefici, parola non in uso, riformula la domanda. Io voglio sapere solamente un perché. Perché? Perché due e due non fanno prima. Ah, ma tu mi fai diventare pazza? Scrivi, dai, forza, scrivi. Caro re. Caro te. Cos'è scritto? Caro te. Un bacio? Bah! Perché fai bah? Perché a me non piace baciare i draghi. Eh, però, se non mi baci non mi trasformo. Mi do un bacio? Facciamo l'ultima domanda. Come finisce questa storia? E mi sarò per sempre felici e contenti. Qua vi vedete? Invece se vengo qua? E allora sto qua. E allora sto qua. Grazie a tutti